Ho scelto questo abitino che poi sicuramente cambierò Ciao ragazze, ciao ragazzi Fuori piove, che brutta giornata Mi sto preparando perché stasera sono ospite in una prima di un film E domani sarò in tv, yeee Quindi vi porto con me Ovviamente quando vedrete il video già sarà andata in onda la puntata Infatti per questo vi dico di seguirmi sempre su G Perché là l'ho detto, posso fare queste comunicazioni più immediate Comunque vi porto con me in questa giornata di preparativi e anche domani E andiamo Una tappa qui da Alessio Franghese Guardate che piega belli Ha fatto una piega bellissima Adoro alla follia Grazie Alessio Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Penso mozzarella Mi piace rivedere Ci vediamo allora, ci organizziamo Bello qui finalmente dopo aver visto il film Mixed by Harry che tra l'altro è bellissimo Ci hanno invitato a questa prima La 01 Distribution Al modernissimo Bellissimo ragazzi Andatelo a vedere Adesso siamo stati invitati In questo locale bellissimo Che si chiama Pressa Poké Si trova a Mugnano Molto molto carino Guardate quanto è bello il locale Qui c'è Armi Ovviamente mi accompagna Nelle mie giornate Nei miei eventi E appuntamenti È troppo carino Adesso vediamo un po' cosa mangiamo Wow Guardate che belli questi panini Panini di mare Fa Poké Panini Sushi Fa tutto Pressa Poké Lo trovate anche su IG ragazze Guardate che belli anche i panini Mamma mia Super super invitanti Non vedo l'ora di mangiarlo Comunque Dovete venirci Che è di Napoli Pressa Poké E fa cose veramente buonissime Stai registrando? Eccola qua È arrivata Angela Ciao Lei devi riprendere Che è la mia truccatrice Angela Buonanno Ha anche una scuola di trucco Quindi ragazzi Se volete imparare a truccare Andate da lei Andate da lei Che è bravissima Come si chiama? AB Pro Laboratorio Makeup Ad Aversa Ad Aversa sta È veramente brava ragazze Vi insegna veramente Le tecniche Proprio per truccare E adesso ci stiamo preparando Perché vado in tv Yeee Ragazzi ho mangiato Una bella barretta Guardate che bel trucco Mi ha fatto Angela Però non è finito Dobbiamo fare le labbra Però Prima di fare le labbra Mangiamo Ad Aversa che domande Mi faranno oggi Chissà Quante barretti mangia Angela Magine Ci consigli una barretta? Ragazzi Negli studi di canale 9 Ci siamo Per andare in diretta Yeee Facciamo anche la miniatura del video Vai Ragazzi Adesso vi porto dietro le pinte Andiamo a vedere chi c'è Guardate quanti personaggi Favosi che ci sono Guardate Questa è una sede Per aspettare Tutti Lì 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 Facci la spaccata Sobretti Vieni 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 C'è una gran Come la Kala Sinvedere Vieni Vieni Allora Trovate tutti i prodotti Prefettiti E poi ho realizzato Anche da Più o meno un annetto Anche Ecco qua La mia linea Capital beauty Di skin care Naturale Carlita Però Tu ora Fai del video Di Mook Bella Anche Ma che Consetto Lo voglio Spiegare Io Diciamo su tiktok mi diverto perché poi sono la mia azienda che è il carità show però poi nel tempo libero diciamo così mi diverto su tiktok mi diverto tanto a fare questi video un buco bello di cibo intervista fatta bellissimo mi hanno detto tutti quanti che sono venuta bene in tv e se volete vederla tutta venite su instagram che l'ho pubblicata tutta quanta come video reel ragazzi ho fatto un saluto speciale anche a tutti i miei follower sono troppo contenta di questa esperienza che ho fatto in tv grazie a voi sempre che mi supportate ragazzi mi stanno rimproverando armando non trovavo la videocamera mi è venuto un attacco mi sto sentendo male comunque ultima sosta oggi vi ho portato proprio con me mano come sono stanca perché stamattina mi sono svegliata presto però il trucco di angelo guardate quanto è bello già ve l'ho detto l'intervista è andato troppo bene stiamo mangiando facciamolo vedere dai binai dai binai mezzo piazza dei martiri qua si mangia benissimo abbiamo mangiato già un bao buonissimo ho pubblicato comunque su IG tutte le foto e adesso stiamo aspettando i spaghetti a vongole e poi andiamo a prendere finalmente il nostro cucciolo a casa che mi ha visto in tv e diceva mamma mamma è vero amore come dicevi mi ha riconosciuto il tv troppo bello il mio amore vabbè ora vi faccio vedere sta pure Dario vai vai non ti preoccupare vai tranquillo un po' di pane questo è per youtube vuoi fare un saluto? no no va bene sono timido un saluto a youtube un saluto a tutto youtube dai binai dai binai venite tutti ai binai che si mangia bene si mangia bene e non si paga non si paga guarda che pochino comunque stiamo proprio di fronte al leone nella piazza dei martiri è bello veramente bello ragazzi venite questa è la puntata venitela a vedere su IG sono tornata a casa mamma mia sto stanchissima sto aspettando a Dario che va a prendere a Daniel che è stata mia suocera e nel frattempo mi sono messa qua a editare il video sono passata anche in azienda a Carlita Shop a vedere i vostri pacchi perché cosa importante abbiamo attivato anche la promo della festa della donna già attiva e avete il 20% su tutto il sito quindi ve lo volevo dire anche a voi di youtube visto che mi chiedete sempre codici sconto e promo innanzitutto seguite la pagina instagram Carlita Shop oltre alla mia personale Carlita Dolce perché sulla pagina Carlita Shop vi diamo sempre codici sconto promo regali novità tutto pubblichiamo e adesso c'è questa promo bellissima ora ve la faccio vedere abbiamo attivato e già stanno arrivando tantissimi ordini del 20% di sconto il codice donna20 che dovete inserire e in più se superate questo senza spesa minima potete spendere quanto volete avete sempre il 20% su tutto in più se spendete 79 euro almeno 79 euro avete un regalo un prodotto e regalo gratis scrivendo nelle note omaggio donna quindi 20% più regalo ora vi faccio vedere guardate 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 quanto è bella questa schermata del sito Carlita Shop festa della donna regalo eccoci il codice sconto guardate quanto è bello poi scorrendo ovviamente ci stanno tutte le foto e ci stanno un sacco di prodotti anche già scontati e ovviamente il codice sconto è valido anche su tutti i prodotti Carlita Beauty quindi potete approfittare per prendere il cofanetto guardate quante recensioni positive ha ma anche prodotti singoli tutto quello che volete la tazza quello che volete al 20% di sconto col codice donna20 quindi approfittate ci sono anche le nuove matite labbra di Puro Bio che sono bellissime e al 20% veramente le pagate pochissimo perché considerate già costano poco quindi ragazze venite ad approfittare vedete quanti matitoni anche questo scrub è bellissimo questo scrub Mimosa è un'edizione limitata per la festa della donna e lo potete avere al 20% uno scrub rassodante anticellulite sali del malmorto molto molto bello perché appunto profuma di Mimosa e dentro ha proprio le Mimose è bellissimo e poi ci sono i nuovi profumi anche di Alchemilla che sono bellissimi questi per chi conosce già il bagno doccia già sa che sono delle fragranze bellissime e sono usciti nuovi profumi che potete avere sempre scontati al 20% quindi vi aspetto su Carlita Shop con questa bellissima promo stiamo vedendo Mare e fuori che già l'abbiamo visto su Netflix però lo stiamo rivedendo su Re 2 adoro chi è il vostro personaggio preferito? mi piace un sacco Carmine guardate lei pupì cucciola ma come è bella pupina mia vuole le coccole vuole le coccole daniel vieni a fare le coccole a pupi eccolo qua vieni a fare le coccole a pupi vieni fagli cara cara oh e che è successo avete spento la tv oh no daniel vieni a fare le coccole a pupi pupi vuole una coccolina da te vuole una carezzina da te no devi fare le carezzine alla tua sorellina no mamma non la vuoi bene tu no si e viene a dare un bacino a mamma no no marono come è tenera ti ricordi la canzone che mi facevi sentire le carezze a pupi c'è un ragazzo non c'è regalo qui che oggi mi ha perdato una eccola e fai la carezza a pupi ah grazie fai la carezza a pupi cara cara dici pupi ti voglio bene mi hanno anche spallato una banana dai anche un bacino te lo ricordi quanto prego ti lecca ti lecca ti dai bacini a mamma lo sai questi sono i suoi bacini vuoi essere accarezzata vedi i baci i baci vuoi si e dagli un bacino tu metti la manina qua fai fagli le carezze non 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 hai visto che fa mamma vuole le coccole quella è piccola 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 mamma è a me vuoi fare un saluto qua ciao a me dici ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ragazzi mettete like a questo video lasciate tanti commentini vi aspetto su instagram e su tiktok saluto a tutti qua nel video ciao ciao mando un bacio coccole coccole e quando le parlo e quando le parlo è aspetto a me i Grazie per la visione!